Ed è così che comincia. Un'opera, un delitto ed io. Sono un segugio e vado a caccia di assassini, ma il mio fine ultimo è sapere la verità. Ci sono molti punti di vista in ogni storia, ma la verità che cerco è una sola. Una donna stasera è stata uccisa in questo teatro e scoprirò chi è stato, fosse l'ultima cosa che faccio. Un'opera, 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 un'opera. Un'opera, 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 un'opera. Un'opera, 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 un'opera. 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 Un'opera, un'opera. Un'opera, un'opera. Un'opera, un'opera. 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 Un'opera.